o no attenzione palla corta di akpa recuperata da sassuolo pericolosissimo e ci pensa pepe reina attenzione sassuolo è pericoloso la palla passa attenzione rete del sassuolo ascoltato rete del sassuolo da rallentare lazari fai la taccina e mobile non c'è nessuno lazari dall'altra parte pari amaro si fai il cross ma perché ancora lazio padre con dio che so che tirano all'altra parte per immobile mobile bella valla con l'altra parola azione ancora il tubo correa mi ha ancora rado molto bene la 23 migliori bravo a che ruba palla a metà campo però poi era da lei valeva azionara durato a grandi palcate per al lavoro questa è buona ma non si c'è ma non si c'è rimedale di con le margine doppio passo magic magic o per dire che viene mobili a dare una mano in difesa lei va palla per milico e c'è la lazio per fortuna sbroglia questa situazione attenzione perché l'azione è partito forte stra fuori gioco ma finisci l'azione per me si lancia di lazari 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 la palla e mezzo il tiro il miracolo sul tiro di immobile alleggeria attenzione bravo ragazzi che che ha fatto e scalante break della lazio caseto 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 balla a piede caseto la dà murici 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 tiro a giro parata partavuata tiro no escalante che si è mangiato che si è mangiato